Il nostro hashtag adesso sta per entrare un bellissimo, un bellissimo da sempre. Chissà se questa cosa anche a lui fatica un po'. Lo capisce, Fabrizio lo capisce, anche Dario Salvatori lo capisco, molti lo capiscono. Sergio Mugniz, alla volta buona! Io ci sarò se tu ora, questa volta è fino all'infinito, ora ci abbiamo chiarito, poi non ritirare. Eh, ti capiscono, capito, accomodati, attore, modello, cantante. Mamma mia, quanta strada che hai fatto. E sei sempre uguale, Sergio, ma perché? Non lo so, io non mi sento così uguale, non mi vedo neanche così uguale, sono molto più bianco, vedi? Molto più bello, eh? Ah, beh, grazie. Sì, vero, ragazze? Mi ha detto il dottore che passerà. Passerà? Cosa? La bellezza? E quando passerà? Intanto lo vedremo a teatro, dal 5 ottobre si è impegnata a teatro Manzoni, e quindi aprite la stagione teatrale qui a Roma. Quanto tempo resterete? Rimaniamo dal 5 ottobre fino al 22, con C'è un cadavere in giardino, che è una comedia comica. Un cadavere in giardino? Sì, ma non l'ho ammazzato io. Sei sicuro? Sicuro, sicuro. E chi l'ha ammazzato? Eh, poi vedrai, poi te lo dico. Qualcuno l'ha ammazzato? Adesso non te lo dico. Oppure non c'è il cadavere? No, no, il cadavere c'è, non lo vedrete, però c'è. Va bene, però c'è, però c'è. Senti, Sergio, in tutto questo stai vivendo a Roma oppure continui a vivere? Adesso sono a Roma perché devo fare le prove, quindi è già da un mese che sono a Roma, quindi un po' lontano dalla famiglia. E rimarrò per un altro mese fino alla fine, diciamo, qui al Manzoni. Poi andiamo in tournée, però no, io sono sempre in Liguria come base. E ti piace stare lì? Sì, sì, mi piace stare lì e tornare lì a Roma. Anche perché arrivi dalla Spagna, ti fermi a Milano e cominci la tua carriera televisiva senza sapere l'italiano e l'inglese, praticamente. Parlavo male lo spagnolo. Ma come male lo spagnolo? E adesso parlo male lo spagnolo, l'italiano e l'inglese. Mi sembra perfetto. Allora, partiamo dall'inizio, anche perché, insomma, chi non ricorda lui tutti quei giorni da solo su un'isola deserta? E tutte, e anche tutti, dicevano, ma qualcuno non può andare a farlo, un po' di compagnia, di stare un po' vicino a lui, di aiutarlo su quest'isola deserta. Dovete sapere che non hanno mai mandato in onda quando lui diceva, basta, me ne vado, non ne posso più. E ne dicevo, eh, le volte. Ma non hanno mai mandato in onda, allora cosa dicevi? Che forse crollava il mito, no, di questo che resisteva. No, guarda, i miei punti devoli, comunque, le dicevo le cose. Come dicevi? Non ce la faccio, domani, se possibile, torno. Poi facevano due chiacchiere, dai, fai, prova a fare un giorno in più. Che poi alla fine è vero, no? Quanti giorni sono arrivati? 46 da solo, due mesi in totale. Voglio parlare con l'autore che ti ha convinto. Bravissimi. Ma bravissimi, guarda, sono bravissimi. Mi hanno convinto e, niente, un giorno dopo l'altro... Secondo me aveva tanti figli, perché un autore che ti riesce a convincere, a restare lì e a parlarti, doveva essere molto paziente. Confermo, bravissimi davvero, perché mi hanno convinto e sono stato lì fino alla fine. E hai vinto? Ho vinto, quello mi ha sorpreso parecchio, perché andare, diciamo, allo scontro diretto contro Kabirvedi e Totoschilaci, la storia dell'Italia... Ma io chi ero, esatto, ma chi ero io? E quindi mi ha sorpreso anche molto, diciamo, di aver vinto. Ti rivediamo. Qui. La seconda edizione... dell'Isola dei Famosi... Sergio Muglia! Sergio Muglia vince! La seconda edizione di Famosi... Si può fare! Prima sfida, il cerco aereo, ovvero Vanessa Esler contro Sergio Muglia. La seconda edizione di Famosi è una cosa molto difficile, poi con questa bellissima musica e questa proiezione, tipo Gravity, si sembrava di essere nello spazio, a parte le mutande orrende, le mutandone... Sì, bella! I can't get you, no, satisfied. And I try, 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 I can't get, no! Scusate, però visto Muniz, com'è? Scusate, però visto Muniz, com'è? Scusate, brava, brava, figura, tu bravissima, no ma lei è brava, no io vabbè me la son cavata, ho fatto del mio meglio, mi son divertito però tantissimo, mi son divertito, non l'avevo mai imitato ed è una scuola pazzesca, perché loro dopo dieci anni di programma hanno comunque molta esperienza, quindi hai dei maestri meravigliosi, quindi se hai voglia di imparare, voglia di metterti in gioco, programma meraviglioso, veramente. Aspetta, aspetta che c'è Dario Salvatore, aspetta Dario arriviamo da te, intanto siamo pronti per giocare con il jukebox. Mick Jagger ha compiuto 80 anni, quindi io ti auguro di arrivare con questa elasticità, è grinta, sì. Elasticità e grinta? Accidenti, io non l'ho mai visto così. Io l'avevo visto un po' di anni fa, ma aveva già sopra i 60 E, l'avevo visto all'Olimpico e ha corso più di totti, veramente. Ha corso più di totti all'Olimpico. Questa così non è bellissima, questi romanisti, eh? No, no. Totti correva, cioè non era uno che non correva. Che caccio, Fabrizio, ma lascia a te la parola, intanto partiamo con il nostro jukebox. Sì, devo dire che la foto quella in mutande al momento è quella più apprezzata. Va bene, va bene. In mutande? No, nel senso, la butanda non c'è, il fisico sicuramente è quello che è stato apprezzato tanto dalle nostre signore a casa, ecco, che scrivono. Ma vedo il dottore che passerà anche questa. Ecco, passerà, passerà. Casomai, mettilo da parte, me lo prendo io quel fisico. Fabrizio. Eh, devo andare in palestra? No, ma sei perfetto. Anche perché seduto non ti si vede nulla, tranquillo. Allora, fino a qui mi salvo, va bene. Esatto, 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 esatto. Giubbaz con Sergio Mugnetto. Vediamo, sentiamo. Vediamo, mettiamo la nostra monetina e vediamo dove ci fermiamo. Vediamo quale canzone è per te, da Canzone Stonate, Serenata, Miglioriani, Ballo, Ballo, Canzoni Stonate. Quali sono le tue canzoni stonate che canti? Allora, la canzone, diciamo, stonata più plateale. Sì, è questa qua che hai fatto qui. No, è probabilmente quella che feci a Sanremo, con i Mattia Bazzar. Cioè? Lì veramente non ero tanto preparato. E perché sei andato a Sanremo senza essere preparato, Sergio? No, 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 erano i Mattia Bazzar che dovevano cantare. Ah. Sì, quindi loro. Hanno chiesto, diciamo, c'era la possibilità, lì c'era Bonolis, sì, a presentare. Potevano portare un personaggio, hanno portato me. Io ho fatto le prove e tutto, ma intanto la paura che dà quel palco scenico è veramente impressionante, fa tanto impressione. Anche se non è un teatro grandissimo, sono stato in teatri molto più grandi. È più grande il nostro studio, vero? No, è il nostro studio più piccolo. Però fa molta paura. Sanremo fa molta paura. E poi, diciamo che non ero preparato e quindi non sono stato molto bravo, diciamola così. Il primo che ti ha criticato? Tra i tuoi, per il tuo entourage, a casa, familiari? No, 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 forse non hanno avuto il coraggio di criticarli, ma mi sono già sentito io, basta. Il peggiore dei giudici sono io. Allora, io quella tua performance ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Ah. La vogliamo rivedere? No. Sì o no? No. Voi la volete rivedere? Io no, però. Il pubblico è sovrano. E allora, rivediamo Sergio Mugniz in quel Sanremo, dove però, l'ha detto, lui doveva fare presenza con il Mattia Bazzaro. Poi non si sa che è successo. Ma hai rivestito? Sì, sì, sì. È quello il problema. È anche tanto vestito, proprio fin qua. È quello il problema. Se tu ci andavi, capito, con la mutanda che ha notato a Mandalir. Non sentivano neanche. Esatto, ho capito? Si tuo corpo è come un frio che acaricia la città, questo mio grido d'amore forma il limite in ora. Il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre il rio, ma non dite che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo si amo o no. E di dirlo trocemente. E così te lo digo. D'esta maniera. Come il vento dall'Oriente. Condoltura. Mi confondi a te. Adios. E Mattia Bazzaro. Impreziositi dalla presenza di Sergio Muniz. Impreziositi. Loro meravigliosi, veramente meravigliosi. Scusate. Viaggia, la mente nei ricordi miei. Viaggia, viaggia, avvolta nella nostalgia di te. Andiamo Lusto e Mattia Bazzaro per questa performance. Assolutamente, un grande applauso. È stato veramente... Per colpa di Munizio. È stato bellissimo poterli conoscere e collaborare con loro, anche se la mia performance non è stata grandiosa. Ma non è vero, ci stai ridendo? Siamo... Sì, 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 ma va bene, no, bisogna buttarsi, bisogna buttarsi. Ho fatto arrivare anche la tua chitarra. Questa è una storia, sta chitarra. Beh, se è bella, me la dici, se non lasciamo perdere. È bellissima. E ti vediamo. Sì, allora, questa chitarra qua, allora, mi è stata regalata dai miei colleghi di Mamma Mia. Ah! Perché avevo comprato una uguale, questa qua, un modello stesso modo. Me l'hanno rubata. Me l'hanno aperto la macchina e me l'hanno rubata. E quindi ero veramente quasi depreso, proprio. Loro, dispiaciutissimo, loro hanno fatto una coletta e me l'hanno presentata mentre io suonavo, mentre recitavo, c'è una scena dove c'è la chitarra, io la vedo a un certo momento e io in scena, diciamo, mamma mia, suono un po' la chitarra. Pensi di aver avuto un'allucinazione. E quando ho detto, ma cosa, e io dovevo andare avanti, c'era tutto il pubblico lì, che emozione, veramente. E quindi grazie ai miei colleghi di Mamma Mia. Che carini. Che me l'hanno regalata. Mettiamo la monetina nel nostro jukebox, ora te la faccio usare, visto che lui praticamente da quando gliel'hanno rubata e regalata vive in simbiosi con questa richitarra. Neanche mi ha salutato, stava con la sua chitarrina, che sarà, viete, Mugniz. È rimpegnata. Dopo 40 si cambia, eh? Dopo 40? Eh, sono già 48. 48 anni hai? Eh sì. Dopo questo, secondo me, qua gli uomini... Declinano, totale. Me l'ha detto il dottore, sempre. Moletina il nostro jukebox. Sto dottore. Vediamo. Dopo canzoni stonate ci fermiamo. Ci fermiamo a Serenata. Serenata. Fammi una serenata. Ti canto una canzone mia, allora. Tua? Eh, vediamo se mi piace però, Sergio. Questa l'avevo fatta nella canzone, l'ha scritta proprio per il film di Verdone. Ok. Eh, vediamo se mi piace però, però... Ok. E' tutta così, no? Eh? Caminamos despacito al amanece, agarrados de la mano, ha dejado de llover. C'è lui che ride, guarda in giro accanto a Fabrizio, che dice... E questa è piaciuta a Verdone? Sì, perché mi ha chiesto una canzone molto melensa. Ah. Mi ha chiesto una canzone proprio dolce, 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 che ti fa venire le carie. E io quella l'ho fatta, le è piaciute, va bene. E quindi... In spagnolo. In spagnolo, in spagnolo, esatto. Brillo, il ragazzo accanto a te ha cominciato a ridere e a guardare in aria, capito? Ma sì, 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 un attimo ho perso, cercavo una traduzione in me, ma io non ho potuto aiutare, ecco. Caminamos despacito all'amanecer. È un'amanecer, hai capito che cos'era? È un'amanecer, scusa. Io parlo spagnolo ma non capivo le parole. Lui parla spagnolo e non capisce le parole, però Sergio, qui abbiamo un problema. Bisogna capito, ho studiato. Caminamos despacito all'amanecer. All'amanecer. All'amanecer, ma che non so. Me ne fai uno in italiano, scusa. Adesso traduce lui. Uno in italiano, uno in italiano. In italiano? Allora, ti posso fare un ritornello in italiano? Vai dai. Dipende da chi dipende. Ah, bella. Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Tutto dipende. Eh, vediamo, dipende, tutti di vista, dipende. Perché vi devo dire? Parto nel spagnolo e poi... No, in italiano, Sergio, basta, siamo in Italia. Tutta la canzone in italiano non la so. In italiano posso fare... Si spenso il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde e notti per me, senza più ce ne calo. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La mia calona che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Io ti fermo perché mi sa che sui social sono comunque fermi alla panzone, alla mutanda nera. Sì, sì, te lo dico. Anche con la chitarra, va bene. Te lo dico, te lo dico. Non ho un microfono, non ho... Che c'è? Cinzia! Ma che... Che succede? Ma come è potuto farlo? Proprio davanti a me, col giardiniere! Aldo è morto! Ed è pure licenziato! È morto? Sì, è morto, penso sia stato un infarto, deve essere morto quando è caduto per terra. Andrea? Chi è Andrea? È il giardiniere, è il suo nome. Ah, non lo sapevo. Ma come è potuto farlo, dai! Ma veramente? Io non ho fatto niente, sei tu che hai aperto la porta e l'hai spaventata. Sì, ma non dico quella cosa, quell'altra cosa! Non l'abbiamo fatto in tempo, ci hai interrotto prima! E se io non fossi entrotto? Beh, immagino che la natura avrebbe fatto il suo corso. La natura? Non mi sembra che stavate piantando dei tulipani. Ma tu non dovevi tornare più tardi? Ah, perché questa è la regola? Mentre io sono fuori, tu ti fai la servitù. Va bene, non... Miliano, estilino! Ciao, Miliano, benvenuta! Ciao, grazie! Ti ha ucciso questo giardino, perché c'è questo cadavere in giardino? È colpa sua, vedi che... È un po' colpa mia. E gli ha preso un colpo, perché stavamo per avere un incontro molto ravvicinato, è entrato mio marito. Ah, ecco! E quindi lui gli ha preso l'infarto e è morto sul colpo. E da qui in poi è proprio... è qui che prende il via la commedia. Perché noi adesso abbiamo il problema di far sparire questo cadavere. E quindi da lì ci sono tutta una serie di situazioni divertentissime, con tanti personaggi che entrano, escono e ovviamente ci rendono più difficili. No, 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 non canto. Ho detto ai colleghi. Vabbè, li amo anch'io. E questa è la dimostrazione per te. E le sorprese sono sempre belle. Intanto ho una sorpresa di rivedere Caterina dopo tanto tempo, ti mando un bacio. e Sergio, Sergio Muniz, che è uno dei nostri alfieri, che posso dire di aver avuto il piacere di far debuttare nel musical con un primo Full Monti e un Mamma Mia. Seguigno, come ti chiamo io, dalla tua chitarra, le tue canzoni, ai grandi palcoscenici, dei grandi musical, ti sei sempre meritato tutto. Beh, che si può dire di Sergio? Si possono dire solamente cose belle, perché Sergio, oltre ad essere un uomo eccezionale, un papà meraviglioso, è un compagno di lavoro esemplare. E per questo motivo sono orgoglioso di averlo conosciuto e di aver condiviso il successo che abbiamo avuto in Mamma Mia. E non vedo l'ora di affiancarlo di nuovo, o in un altro spettacolo, o magari ritornando insieme con Mamma Mia. Sergio, ti faccio un in bocca al lupo per i tuoi progetti e per tutto quello che affronterai e ti mando un bacio grandissimo. Questo piccolo video intanto è per salutare Caterina, bellissima, e il mio amico Sergio. Abbiamo portato in scena per cinque anni uno spettacolo travolgente, Mamma Mia. Abbiamo raggiunto un milione di spettatori ed è stata un'esperienza magica. Sergio è un compagno di lavoro meraviglioso e credo che questa esperienza che abbiamo vissuto insieme ce la porteremo dentro il nostro cuore per tutta, tutta la vita. Ciao Caterina, ciao Sergio. Caterina, mi sa che ci vediamo presto. Perfetto, ti aspetto. Grazie Luca, Paolo Conticini e Massimo Romeo Tiparo, il regista di Mamma Mia. Veramente un grande successo, quindi bravi tutti e quattro e anche il resto della... della compagnia di Mamma Mia. Tutti i 30 che siamo sul palco, anzi, che eravamo sul palco. Va bene, intanto però c'è un altro appuntamento al Teatro Manzoni, quindi vi veniamo a trovare dal 5 ottobre al 22. Sì, dal 5 al 22 qui al Manzoni e poi saremo in tournée per due mesi per l'Italia. La prima tappa sarà il Teatro Gioiello di Torino dal 26 di ottobre. Bello, 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 lì a Torino. Bene, restate intanto con noi perché c'è qualcuno a quale vorrei regalare 500 euro. Abbiamo il nostro gioco telefonico, quindi restate qui con noi e io mi trasferisco dall'altra parte con tutte le nostre sfere. Grazie. Grazie. Grazie.